Se mi puoi aiutare, lo vorrei tanto, vorrei che... Ho la strana sensazione che tu fossi in linea adesso. Ciao, devi comprare un materasso? Io potrei darti dei consigli, sono bravissima a consigliare. Se solo mi potessi aiutare... Ti posso aiutare, prova da Grinta fabbrica materassi, se dormi bene, produci di più. No, carina come idea, i miei affari vanno male. Ah, bene. Da Grinta troverai materassi di tutti i tipi, sono i migliori in zona. Come dovrebbe essere sto materasso? No, niente particolari, ti ricordi? Senza particolari è difficile aiutare, ma da Grinta sono bravi. Vai su internet e clicca Grinta fabbrica materassi. Ti posso solo dire, vai e... Che cosa? Ma che significa? Grinta significa qualità, convenienza, cortesia e la risposta a ogni esigenza. È sempre aperto Grinta, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. E ricorda, con Grinta non si riposa per finta. A presto. Grazie. Grazie. Grazie.